Benvenuti al nostro telegiornale in apertura all'aggiornamento sul covid in Molise con il bollettino diffuso dall'ASREM. 16 nuovi positivi e 27 guariti. Un decesso riportato si tratta di un 65enne di Termoli che era ricoverato al Cardarelli ed è deceduto venerdì. Intanto il sindaco di Petrella Tifernina ha comunicato che ci sono almeno una ventina di positività in paese e diverse sono a scuola tanto da aver disposto la sospensione della didattica in presenza fino all'8 maggio. Sentiamo. Sono 16 nuovi positivi in Molise su 337 tamponi refertati con tasso di positività al 4,7%, 27 i guariti. Il decesso riportato nell'ultimo bollettino dell'ASREM sul covid risale a venerdì. Un 65enne di Termoli che era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Campobasso. Sono 468 le vittime da inizio pandemia in Molise, 653 il numero degli attualmente positivi. In leggera risalita i ricoveri, tre in più nelle ultime ore, tutti in malattie infettive a Cardarelli. Un trasferimento invece in rianimazione nessun dimesso. Gli ospedalizzati nella nostra regione sono 56, al Cardarelli 42 sono nel reparto infettivi e sempre 10 in terapia intensiva. Due i pazienti al Gemelli e altrettanti al Neuromed. Dei 16 nuovi positivi il numero più alto riguarda ancora Campobasso, con 7 casi a fronte di 9 guarigioni. Però nei restanti comuni interessati numeri inferiori, due e soprattutto un positivo. Nel bollettino ASREM è riportato un nuovo contagiato di Petrella, ma il sindaco Alessandro Amoroso ha comunicato che a seguito dell'esponenziale crescita dei contagi riscontrati in paese dopo i test effettuati ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza nella scuola dell'infanzia elementare e media fino all'8 maggio. Nell'aggiornamento fornito dallo stesso primo cittadino di Petrella Tifernina si legge che in ambiente scolastico ci sono un insegnante e 13 alunni con il Covid e ancora fuori dal contesto scuola 8 adulti e una bambina. In paese insomma una ventina di positività dopo i test a cui si sono sottoposte le persone interessate. Lunedì 26 aprile intanto è la data in cui il Molise diventa zona gialla. La parola d'ordine adesso è senso di responsabilità che è l'arma da affiancare alla vaccinazione per sconfiggere il Covid. Finora il 92,9% di somministrazioni rispetto alle dosi consegnate, circa 930 le dosi somministrate nel giorno di festa del 25 aprile. Ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi un uomo di 60 anni, Felice Valente, che mentre stava tagliando la legna nella campagna di sua proprietà è stato schiacciato da un albero. Sarebbe questa la ricostruzione dei vigili del fuoco intervenuti immediatamente sul posto in un bosco incontrato a San Nicola, Sessano del Molise. A dare l'allarme sono stati i familiari dell'uomo che non l'avevano visto rincasare per pranzo. La moglie dunque si è precipitata sul posto dove ha trovato il marito sotto un grosso tronco. I sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto fare nulla per salvare il sessantenne Felice Valente, che lascia la moglie e due figli, era dipendente di una fabbrica a Sessano del Molise ed era molto amato in paese anche per le attività sociali e sportive a cui era solito partecipare. Da domani in Consiglio regionale cominciano le sedute dedicate all'approvazione del bilancio di previsione. Un momento delicato per una regione appesantita da una mole di debiti che rischia di schiacciarla, come affermano i 5 Stelle, due mutui per un totale di mezzo miliardo di euro e l'urgenza di trovare risorse aggiuntive per almeno 19 milioni di euro. Questi invece i nodi che potrebbero venire già al pettine domani con la relazione introduttiva di Donato Toma. Ci dice tutto in questo servizio Enzo Di Gaetano. Da domani parte la non-stop dedicata ai conti in Consiglio regionale. In discussione il bilancio di previsione triennale con la presa d'atto della drammatica situazione in cui versano i conti della regione. Parliamo di un'istituzione che ha un bilancio annuale di circa un miliardo, di cui 600 milioni destinati alle sole spese sanitarie. Per il Movimento 5 Stelle ci si avvicina la sessione di bilancio con un'unica certezza. Sulle nostre teste, dicono, gravano debiti per circa 500 milioni di euro per ora, perché ci sono ancora debiti ingenti che devono venire a galla, come i 7 milioni dovuti a Morise Dati, o peggio, i 40 milioni di sanzioni e interessi sui debiti previdenziali delle disciolte ASL. Più che cercare alibi e colpevoli in chi c'era prima, il governo Tom può iniziare con un mea culpa. Infatti, sottolineano i grillini, accanto al presidente contabile, così definiscono il governatore, siedono più o meno gli stessi protagonisti che hanno partecipato agli ultimi tre governi regionali. Attendiamo ancora la definitiva chiusura delle comunità montane, in liquidazione da oltre un decennio. Continuiamo a pagare profumatamente gli affitti delle diverse sedi regionali sparse sul territorio e ancora auto blu, stipendi da capogiro e rimborsi vari. Fin qui i 5 stelle e, a proposito di costi da tagliare, c'è subito una prima notizia. La Regione ha messo in vendita la sede di Via Nomentana a Roma, pensando di ricavarne almeno un milione. Per il resto, Toma le sue carte le scoprirà domani in Consiglio regionale, dove metterà in evidenza come tutto ciò che è accaduto in passato sia già stato messo nero su bianco nella delibera di giunta numero 60 del 29 marzo. Lì c'è il cosiddetto elenco della spesa, con i mutui contratti dai precedenti due governi regionali, per un totale di 500 milioni. Lì in quella delibera c'è scritto che fino al 2018 i residui attivi degli anni passati non venivano verificati nella loro fondatezza e c'è anche scritto tanto altro, compresi debiti non pagati all'Inps per i contributi sospesi. Attualmente ogni anno dalle casse della Regione devono uscire 18 milioni solo per pagare i mutui. Insomma, una situazione da predissesto, anche se Toma afferma di avere già in mente soluzioni per ogni problema. In sostanza, dice il Governatore, fino al 2018 la Regione è stata amministrata non tenendo d'occhio la compatibilità delle spese con le entrate, senza una reale pianificazione finanziaria. Con questo bilancio di previsione abbiamo messo a posto tutti i numeri. È chiaro che bisognerà stringere la cinghia, ma è altrettanto chiaro che per la gestione dei residui attivi passati ora la palla passa alla Corte dei Conti. Domani dunque la seduta sul bilancio in Consiglio regionale. Il capogruppo del PD, Micaela Fanelli, presenta un emendamento contro il progetto South Beach. Toma non può lavarsene le mani. Dice il Consiglio si opponga con voto unanime alla colata di cemento sulla costa molisana che non rappresenta il futuro turistico del Molise. Con l'emendamento si chiede una volta per tutte di stabilire quali siano le vocazioni turistiche del Molise definendo le basi strategiche partendo dalla conoscenza del nostro patrimonio territoriale per la realizzazione di un'offerta integrata con la partecipazione attiva della popolazione locale soprattutto nel rispetto delle vocazioni ambientali, conclude Fanelli. Da domani il Molise torna in zona gialla ma alla vigilia del passaggio di colore con la complicità del bel tempo già saltano tutte le regole di distanziamento. Il corso di termoli nella giornata di ieri si presentava così come vedete in questa foto una fiumana di gente a passeggio lungo la principale strada della città. La voglia di uscire è comprensibile ma si raccomanda di non stare in luoghi affollati anche se all'aperto per non vanificare i sacrifici fatti finora e stesse scene anche oggi a Campobasso lungo il corso più o meno ecco vedete la gente comunque a passeggio con il bel sole la giornata di festa in tanti si sono riversati in strada l'appello è dunque alla prudenza e prudenza e senso di responsabilità appunto l'appello del questore di Campobasso Giancarlo Conticchio ascoltiamo Prudenza e grande senso di responsabilità quello che dovremo avere tutti a partire da domani quando il Molise tornerà in zona gialla l'arma per sconfiggere il covid e il vaccino ma anche i comportamenti responsabili della gente di tutti dai più giovani agli anziani rispettare la distanza, indossare la mascherina, evitare assembramenti i sacrifici che stiamo facendo sono enormi e non bisogna vanificare le conquiste ottenute perché si sa il contagio c'è e basta poco per far impennare la curva il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio come ha sempre fatto finora invita tutti al rispetto delle misure anti-covid metteremo in campo i controlli potenziati ma io farei leva più che sui controlli potenziati sul senso di responsabilità di ognuno di noi se ognuno di noi rispetta le regole se ognuno di noi si ricorda del distanziamento se ognuno di noi si ricorda di indossare la mascherina e di mettere in campo le minime misure sanitarie forse andremo avanti e sicuramente andremo avanti l'appello che faccio è evitiamo di frequentare luoghi affollati evitiamo gli assembramenti per evitare di ritornare subito dopo l'estate al periodo buio dello scorso anno Conticchio si rivolge a tutte le fasce di popolazione e in particolare ai più giovani e lo fa non solo come questore ma anche come padre io capisco il giovane perché ognuno di noi è stato giovane e quindi ha voglia di uscire, di fare però facciamolo con moderazione cioè non ci riuniamo 50 persone riuniamoci in due, tre l'amichetta, l'amichetto sì, vediamoci ma facciamolo con molto distanziamento Oggi 25 aprile, festa della liberazione iniziative istituzionali in tutta Italia in forma più sobria e ridotta a causa del covid iniziative anche di cittadini con ideali antifascisti come quella organizzata a Campobasso in via Martiri della Resistenza sentiamo Qui vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce perché tutti li avessero aperti per sempre alla luce sono le parole scolpite da Giuseppe Ungaretti nella sua poesia per i morti della resistenza il messaggio della libertà contro le dittature ribadito nelle cerimonie istituzionali sobria a causa delle restrizioni anti-covid che si sono svolte in tutta Italia per il 25 aprile festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo a Campobasso la deposizione di una corona dall'oro al monumento dei caduti in piazza della Vittoria la presenza del sindaco Roberto Gravina dei rappresentanti della prefettura e dell'Ampi Molise e l'associazione Partigiani festa di libertà di tutti gli italiani ora più che mai serve unità ha detto nel suo messaggio il presidente della Repubblica Mattarella Resta comunque la giornata quella più importante che rappresenta appunto la liberazione quest'anno la leghiamo ancora una volta la pandemia però insomma è bene tenere distinta al di là delle metafore perché è un giorno importante la memoria non la dobbiamo mai perdere ora è sempre resistenza è sempre quello il messaggio è il messaggio che i nostri partigiani portavano nel cuore sulle spalle messaggio con il quale hanno costruito hanno contribuito a costruire a fondare la nostra Repubblica oggi è un messaggio di vita di sopravvivenza 130 morti 130 è l'ultima delle cifre dei morti del Mediterraneo oggi il messaggio della resistenza è di vita di libertà di resilienza alla pandemia ma di accoglienza di chi non soltanto della pandemia è vittima ma di guerre di immigrazione forzata e di troppo altro presente anche Gilberto Fazzini padre di Gian Mario di recente scomparso e attivo nella lotta per i diritti umani e per i principi di libertà e democrazia e Gian Mario si chiamava anche il fratello di Gilberto Partigiano ucciso dai nazisti sì ho trovato appena la forza di venire qua perché sia mio fratello che mio figlio me l'hanno suggerito quindi però purtroppo ringrazio tutti ringrazio tutti e cercate di di tenere sempre presente questa giornata per tutti quindi grazie e nel ricordo di Gian Mario Fazzini anche la manifestazione invia martiri della resistenza iniziativa di diversi cittadini con ideali antifascisti a cui hanno aderito ma la testa associati Casa del Popolo Arci fermenti liberi per celebrare la giornata della liberazione il messaggio è semplice non dimenticare mai sembra banale ma è quello non disinteressarsi mai alla politica non disinteressarsi mai al nostro Stato all'Italia che è stata costruita da persone che hanno versato il sangue inaugurato il murale donato dall'artista Claudia Romagnoli conosciuta come Croma agli abitanti del quartiere abbiamo deciso di rappresentare Giovanni Porfirio e Mary Naiman che facevano parte della banda partigiana di Trivento una delle poche bande locali partigiane del Molise e abbiamo rappresentato anche la loro base operativa dal settembre 43 al gennaio 44 che è la morgia di Pietrafenda dove appunto loro vivevano si appostavano e diciamo programmavano le loro azioni volevamo riprendere una storia locale perché è dal proprio territorio che bisogna ripartire per costruire una memoria collettiva presente e futura applicare la resistenza oggi e domani in tutte le azioni del nostro quotidiano momento di memoria collettiva con le letture e gli interventi tra gli altri di Flavio Brunetti e Fabrizio Nocera docente Unimol collegamenti poi con associazioni ambientaliste e sociali a Monte Cilfone Bosco Corundoli e con chi a Isernia è attivo per la difesa dell'ex lavatoio e sul 25 aprile quest'anno si abbatte anche una polemica polemica scatenata da una frase contenuta nel messaggio del presidente della regione Toma diffuso in occasione appunto della festa della liberazione nel quale viene citato anche un gruppo di soldati marocchini che però si rese protagonista di numerosi crimini compresi stupri e violenze atti conosciuti oggi con il termine marocchinate all'attacco del presidente Toma l'associazione delle vittime delle marocchinate ma anche le forze politiche di centrosinistra il governatore risponde alle polemiche sostenendo di essersi limitato ad elencare chi faceva parte del contingente alleato sentiamo Enzo Luongo A scrivere la grande pagina democratica che portò al 25 aprile concorse una pluralità di soggetti di diversa estrazione politica militare e religiosa accomunata dall'obiettivo di liberare il paese dagli oppressori tra questi c'erano anche i Goumier marocchini di etnia berbera questa frase contenuta nel messaggio del presidente della regione Toma per il 25 aprile ha scatenato un polverone a reagire per primo Emiliano Ciotti presidente dell'associazione nazionale vittime delle marocchinate il presidente Toma protesta Ciotti dimentica o non conosce i delitti commessi da questi soldati durante la campagna d'Italia moltissimi furono i casi di violenze carnali ai danni di donne ma anche di uomini conosciuti con il termine di marocchinate e anche il Molise ha pagato il suo tributo di dolore sempre Ciotti invita quindi il presidente Toma a partecipare alla giornata nazionale in memoria delle vittime e delle marocchinate che si terrà il 18 maggio in diverse città italiane all'attacco del governatore vanno anche le forze politiche di opposizione la libertà è un diritto non negoziabile afferma il segretario regionale del partito democratico Vittorino Facciolla Toma ci copre di vergogna chiediamo scusa alle famiglie delle vittime delle marocchinate per Facciolla inoltre Toma nel suo intervento sul 25 aprile tenta un'operazione strategica quella di togliere alla data il valore della libertà conquistata dai partigiani per redistribuirlo a tutti coloro che in quel momento storico si trovavano a combattere sul suolo italiano ma ne combina una delle sue sono sempre le parole dell'esponente del PD annoverando tra i salvatori della libertà e dell'Italia anche il contingente di soldati tunisini senegalesi e gumier marocchini di etnia berbera Facciolla infine parla di vergogna nazionale per il Molise e ricorda che ci furono diversi casi di suicidio tra le donne violentate e si registrarono molti casi di infanticidio di bambini nati in seguito agli stupri commessi a tutte le polemiche il governatore replica con una dichiarazione all'Ansa spiace constatare che qualcuno abbia voluto dare un'interpretazione del tutto personale completamente avulsa dal contesto storico al quale le mie dichiarazioni facevano riferimento i gumier aggiunge ancora Toma facevano parte del contingente alleato e mi sono limitato solo ad elencare da quali forze fosse costituito hanno combattuto hanno dato il loro contributo per la liberazione del paese l'ho detto e lo riaffermo conclude il presidente questo è un dato di fatto inoppugnabile che sicuramente non attenua la loro posizione in ordine ai crimini commessi alla Fiat di Termo l'incontro tra il comitato esecutivo e il direttore della fabbrica per il prossimo autunno probabile la piena occupazione domani si discuterà della possibilità di trasferte in Francia sentiamo Andrea Nasillo dopo il vertice nazionale tra i sindacati e la dirigenza di Stellantis è confronto aperto all'interno della fabbrica FCA di Termoli nelle scorse ore si è riunito il comitato esecutivo alla presenza del direttore di stabilimento approfondito il delicato periodo che sta vivendo il sito di Pantano Basso importante recuperare quanto prima la competitività nell'ambito anche dell'incertezza dei mercati con il periodo di cassa integrazione che comunque preoccupa l'indotto e i lavoratori soprattutto i sindacati hanno chiesto attenzione massima sulla corretta gestione della rotazione del personale della fabbrica termolese dalla direzione e le rassicurazioni che la piena occupazione potrebbe rientrare a partire dal prossimo autunno ci sarebbero le condizioni domani altro incontro e nell'occasione molto probabile la conferma delle riaperture del servizio mensa e degli spogliatoi e soprattutto si discuterà notizia delle ultime ore di una possibile trasferta dei lavoratori in base ai numeri richiesti nelle fabbriche stellanti si infrancia sul fronte pandemia gli attuali positivi sono 4 e calano da 5 a 2 le quarantene precauzionali l'incidente che sanguinava che sanguinava che sanguinava all'arrivo dei soccorritori ha riportato diversi traumi sul posto 118 misericordia e carabinieri racconta una storia vera il libro il mio covid scritto da Antonio Sinibaldi l'autore ha messo nero su bianco la sua difficile esperienza con questa malattia il testo è disponibile su amazon e nella cartolibreria Biferno a Boiano sentiamo Patrizia Testa che ha intervistato Antonio Sinibaldi oggi presentiamo il libro autobiografico di Antonio Sinibaldi il mio covid è il titolo di questo progetto uscito a fine marzo e nato durante i 30 giorni in cui lui è risultato positivo a questa malattia è una sorta di diario l'autore molisano infatti racconta giorno per giorno questa difficile esperienza oggi veramente è un bellissimo giorno anche per me perché posso finalmente aiutare con il mio libro a capire che cos'è il covid perché in questi 30 giorni che sono stato comunque all'interno di queste quattro mura ho provato veramente tantissime sensazioni da un lato la paura da un lato la gioia da un lato ancora la paura anche per i miei familiari i miei figli mia moglie soprattutto e i miei genitori quindi è stata veramente una cosa molto 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 difficile da superare però grazie a Dio ce l'ho fatta e adesso posso raccontarla solo chi ci è passato può capire queste le parole di Sinibaldi che invita tutti a non abbassare la guardia in giro io vedo tante persone che comunque ancora non usano benissimo la mascherina per esempio noi stiamo cercando comunque di divulgare questo messaggio usiamo la mascherina cerchiamo di seguire le regole anche il distanziamento sociale perché solo chi ci è passato può capire e che cos'è io fortunatamente posso raccontarla questa mia storia ma tanti miei amici purtroppo o sono intubati o stanno lottando ancora per questo problema veramente grave e quindi il mio messaggio è proprio questo stiamo attenti cerchiamo di seguire totalmente le regole altrimenti veramente la situazione può degenerare in questi giorni abbiamo visto che sia a Campobasso sia a Boiame sia in tutto il Molise c'è un piccolo incremento questo è un problema perché vuol dire che non siamo stati attenti a seguire queste regole e ecco di nuovo lo voglio ripetere solo chi ci è passato lo può capire perché nel momento in cui si passa e si sta veramente male con la febbre con il saturimetro sempre nel dito per controllare che non si abbassi la saturazione sotto i 92 è bruttissima come sensazione veramente brutta e stai male veramente stai male i dolori le ossa rotte la febbre alta il fatto che non puoi respirare bene vi racconto una storia veramente vera in questo libro proprio i miei 30 giorni all'interno di 4 mura veramente 4 mura da solo senza possibilità diciamo di contatti con l'esterno è stata veramente dura il Rotary Club di Termoli ha donato un defibrillatore alla scuola brigida l'iniziativa rientra nelle intenzioni dell'amministrazione comunale di rendere le strutture scolastiche cardioprotette ancora Andrea Nasillo il Rotary Club di Termoli dona un defibrillatore su indicazione dell'amministrazione comunale che sta cercando di coprire con la cardioprotezione l'intera rete scolastica cittadina una delegazione di soci guidata dal presidente Gerry Carotenuto ha offerto alla brigida questo importante servizio obiettivo dell'iniziativa è permettere la scuola di Via Luigi Sturzo di dotarsi di uno strumento salvavita sempre nella speranza di non doverlo mai usare riconoscenti il preside Francesco Paolo Marra il personale e il presidente del consiglio d'istituto Anna Maria Perla all'iniziativa di consegna anche l'assessore comunale all'istruzione Silvana Cicciola e il consigliere comunale Nico Balice un connubio quello tra la brigida e i Rotary che lo scorso 4 febbraio si era già perfezionato con la donazione di due computer da utilizzare per la DAD evidenziata l'importanza della disponibilità di un defibrillatore in un ambiente come quello scolastico e non sono mancate le domande mai banali da parte dei ragazzi che hanno mostrato interesse e curiosità sulle modalità di funzionamento dell'apparecchio sanitario sarà mio impegno ha detto l'assessore Cicciola quello di provvedere anche per gli istituti Principe di Piemonte e Difesa Grande che ne sono ancora sprovvisti John Lynch l'attore che ha origini di Trivento ai microfoni della radio Triventina storica radio Triventina Radio Europa 1 ha parlato del suo legame con il paese della mamma rosa della sua carriera e del suo prossimo impegno perché interpreterà Massimo Troisi e vedremo anche le immagini alcune immagini di questo film nel servizio realizzato da Enzo Luongo con tutte le anticipazioni e tutte le particolarità non è la prima volta che mi capita un personaggio così complesso Massimo era un'icona in Italia penso sia stata una buona idea decidere di non utilizzare un attore italiano perché ci sarebbero stati un sacco di problemi culturali di gestualità mentre una persona come me mezzo italiano di origine cresciuto in Irlanda può tirare fuori qualcosa di diverso di intrigante così l'attore irlandese John Lynch protagonista di decine di film di successo mondiale racconta del film che ha girato lo scorso anno e che uscirà prossimamente nel quale interpreta Massimo Troisi il film si intitola Da domani mi alzo tardi è tratto dall'omonimo libro di Anna Pavignano e alla regia del nipote di Troisi Stefano Veneruso con le musiche inedite di Pino Daniele Lynch che è originario di Trivento paese del quale è anche cittadino onorario e dove torna spesso si è raccontato in un'intervista alla web radio del paese Radio Europa 1 non sapevo molto di Massimo avevo visto solo il postino ha detto ancora a proposito del film poi ho studiato la sua vita ho saputo dei suoi problemi di salute e la sua storia mi ha emozionato l'idea centrale del film è che io faccia Massimo come se lui non fosse mai morto come se fosse tornato dopo 25 anni quindi non interpreto il Troisi giovane faccio la mia versione inglese di un Massimo alla mia età attuale nell'intervista Lynch ha anche ricordato il suo grande successo Slide Indoors non faccio spesso commedia e quella fu la prima volta per me di una commedia romantica è stato un film molto importante l'attore che ha molti progetti in cantiere tra nuovi film e serie tv ha poi parlato del suo legame con Trivento ha ricordato sua madre Rosina Pavone che da Trivento partì per trasferirsi nel nord Europa e ha confessato che a lui piacerebbe fare un film in paese dove ha tra l'altro già girato un cortometraggio con i giovani del posto qualche estate fa certo mi piacerebbe farlo ha detto alla radio bisognerebbe solo trovare il copione giusto è tutto termina qui il nostro telegiornale grazie per averci seguito e arrivederci grazie per aver guardato